L'innovazione oggi è assolutamente fondamentale per quanto riguarda anche il turismo, l'innovazione è quello che il mercato domanda e per rimanere sul mercato l'innovazione è soprattutto da tre elementi fondamentali, un'innovazione di prodotto che è necessaria, l'altro ovviamente è la gestione territoriale ma soprattutto del marketing turistico e il terzo elemento fondamentale dell'innovazione è quello dell'innovazione anche nella propria organizzazione delle aziende, dove è fondamentale lavorare in concetto di rete per essere in grado di sviluppare delle reti di imprese ma soprattutto che siano in grado di creare prodotti competitivi e attrattivi che incrementino l'attrattività ma anche la competitività complessiva del Friuli Venezia Giulia.